Pace e bene. Sono fratezio dell'antica farmacia Sant'Anna dei frati carmelitani Scalzi di Genova. Ci troviamo in un luogo molto bello, molto antico, ma anche nascosto. Per questo organizziamo gratuitamente delle visite guidate. Pensate che siamo presenti a Genova già dalla prima metà del Seicento. L'antica farmacia Sant'Anna dei frati carmelitani Scalzi è uno dei luoghi più suggestivi e attraenti della città, ma anche un luogo di pace, un luogo di preghiera, dove risiedono tuttora una quindicina di frati carmelitani. Per questo gode di una certa riservatezza. Oggi, visto la fama dei nostri prodotti e la bellezza del luogo, sempre più scolaresche, gruppi e tour operator organizzano visite guidate alla scoperta della farmacia. Sono visite che noi doniamo gratuitamente, quindi potete venire, potete organizzarle, potete un'insegnante, ad esempio, metterci d'accordo per portare una scolaresca, oppure un gruppo, un gruppo aziendale, un gruppo di amici di almeno 20-25 persone. Se ci mettiamo d'accordo, possiamo organizzare un tour di un'ora, un'ora e mezza, dove io spiego tante cose. Appunto, ci sono gli aredi del Settecento, la chiesa al convento del XVI secolo, un presepe artistico, un giardino ed il roseto, ricco di varietà antiche, di rose e anche di agrumi, e un'esperienza unica di visita tra storia, medicina, natura ed arte. Siccome siamo consapevoli di questa ricchezza, vogliamo proprio offrire la possibilità di scoprire questo luogo. Quindi, io vi accolgo, concordando, come vi dicevo, le date, e cerco di modulare la visita a seconda anche dell'uditorio. Se ci sono dei bambini delle elementari, piuttosto che delle scolaresche, delle superiori, o un gruppo di amici che hanno un certo interesse, possiamo appunto modulare poi la visita, dopo aver visto le cose generiche, magari su alcuni punti particolari. Mi ricordo una volta che è venuta una scolaresca, era interessata alle api, dopo aver fatto un'introduzione generale, per un'ora abbiamo parlato delle api, del miele, del polline, del propoli, della cera, eccetera. Quindi vi invito a venire, ripeto, le visite sono gratuite, chi lo desidera magari potrà poi aiutarci, sostenendoci, acquistando qualche prodotto, senza nessun obbligo. Quindi un'organizzazione, un'associazione, una scolaresca, un tour operator può organizzare una visita qui. La faccio io, la seguo io, spiego io, faccio io da Cicerone, però ovviamente prima dovete contattarci in modo da metterci d'accordo e trovare il momento adatto per tutti. Per fare questo potete o visitare il nostro sito internet, erboristeriadeifrati.it, da cui potete mandarlo in e-mail, potete telefonarci allo 010 2513 285 chiedendo di frate Ezio, oppure potete anche venire a fare un sopralluogo e metterci d'accordo. Vedrete che posto è molto bello e non vi deluderà. Dio vi benedica. Pace e bene. Sono frate Ezio dell'antica farmacia Sant'Anna dei frati carmelitani scalzi di Genova. Oggi vi voglio parlare di un'antica ricetta, la pozione di Echinacea composta. Cosa contiene? Contiene molte erbe. Contiene piante e fiori di spirea omaria, radice di Echinacea, foglie di ribes nero, corteccia del fusto e delle radici di uncaria tormentosa. Nella stagione fredda non sempre l'organismo è in grado di affrontare da solo naturalmente i vari fastidi tipici di questo periodo dell'anno, in modo particolare quelli che affliggono l'apparato respiratorio, le articolazioni. Ecco quindi l'importanza di un prodotto utile nella profilassi e nel trattamento delle malattie del raffreddamento, in particolare dell'influenza e in generale delle malattie virali. Stimula il sistema immunitario, rafforza le difese dell'organismo nei confronti delle sindrome influenzali o interessate le vie respiratorie superiori, di cui allevia l'infiammazione. Svolge inoltre un'azione analgesica, antifiammatoria e antipiretica. Valida nel trattamento sintomatico delle manifestazioni articolari dolorosi e nelle micranie. L'eribes nero stimola le ghiandole surrenali a produrre cortisolo, un cortisone endogeno che aiuta l'organismo a reagire alle infiammazioni. La popolazione indio del Perù usano l'uncaria, la radice, la corteccia e i fiori per rimettere in forza le persone e ristabilirle lo stato generale di salute. L'aspirea ulmaria è la pianta da cui è stato estratto per la prima volta l'acido salicilico, cioè il principio base dell'aspirina. Ogni caso ovviamente è diverso, quindi conviene sempre chiedere un consiglio personalizzato. Può essere indicato l'abbinamento con i frutti di rosa canina, con il propoli, con le caramelle balsamiche, con il miele balsamico, con gli oli essenziali balsamici. In caso di affezione delle prime vie respiratorie è utile abbinare la pozione di altea poligala composta. Per ulteriori informazioni o consigli potete visitare il nostro sito internet erboristeriadeifrati.it da cui potete mandarmi una e-mail. Potete telefonarci allo 010 25 13 285 oppure venire qui in piazza Sant'Anna 8. In certi giorni della settimana io ricevo personalmente e basta telefonare e prendere un appuntamento. Dio vi benedica. Grazie a tutti.